Buongiorno a tutti, allora mi ero dimenticato, me l'ha fatto notare uno dei miei follower, meno male che ho i follower gentili che si ricordano ogni tanto che anch'io posso dimenticarmi le cose, perché sabato scorso mi ero proprio dimenticato, Brescia come ero convinto si giocasse di domenica e quindi non l'ho registrata, ho detto tanto giocano domenica poi la programmo e invece ho giocato il giorno prima, sono lì al ristorante con il mio amico a mangiare la solita pizza del sabato sera e mi fa, hai visto il como cosa ha fatto? Gli ho detto no non dirmi niente perché non gli ho detto che non l'avevo registrata, ma perché l'ho registrata? Non dirmi nulla, non voglio sapere nulla, che così me la godo. Poi torno a casa, guardo, non l'avevo registrata, convinto probabilmente perché io le programmo sempre qualche giorno prima, sia lo sci che il calcio del como, perché non sempre l'orario è preciso da libidine che posso vedermi la partita in diretta, poi sinceramente mi piace gustarmela in differita, così stoppo, rivedo, rifaccio, qua là su giù, mi prendo il mio tempo, mando avanti, mando indietro, in base anche a come sono le azioni, stoppo, rivedo e quant'altro. Tra l'altro adesso ho rivisto gli highlight, potevo vedere solo quelli, mi sono già dimenticato chi è che ha fatto, vabbè ne parleremo adesso della partita, perché primo tempo c'è stato Bins che ha fatto un salvataggio, madonna benedetta, salvataggione no? Perché c'è questa palla sporca in area, Ghidotti, penso Ghidotti, a meno che non hanno già, perché ho saputo che hanno preso il portiere nuovo, il como non, infatti è Gomis, Gomis libidine, Gomis si è catapultato sul pallone, però il giocatore del Brescia, Pablo Rodriguez, se non ricordo male, nel contrasto gliel'ha portata via, si è allargato, è andato sull'esterno, però aveva ancora leggermente spostato dalla porta, però aveva la visuale, ha calciato, Bins è stato bravissimo a tornare sulla riga di porta e con il corpo, finendo in porta, lui ma respingendo prima della linea di fondo, il tiro a botta sicura di Rodriguez, che avrebbe dato il vantaggio, al Brescia, non ha sfruttato l'occasione, non ha sfruttato l'occasione, contropiede del buon Cutrone, in fascia, era sulla fascia sinistra, della metà campo del Brescia, c'era solo lui e il difensore, però era defilato sulla sinistra, il difensore del Brescia è entrato in scivolata alla quando sei disperato e poi dopo non prendi la palla, ti buttano fuori, infatti è stato bravo Cutrone alla Inzaghi ad allungarsi la palla, a farsi stendere, è arrivato l'arbitro di corsa da Tor Rosso. Allora, la questione è molto semplice, lui è sulla sinistra, tre quarti campo, defilato sulla sinistra, è vero, non c'è nessuno nella metà campo della, però sinceramente fallo da ultimo uomo su un'azione sulla fascia, che è vero, il contropiede, tutto quello che vuoi, c'erano i due disperati della metà campo del Brescia, ecco per intenderci, perché proprio non c'era nessuno, l'hanno lasciato lì solo, il povero Mangraviti, ha fatto, lì anche tu, prende palla e sull'esterno, cos'entra in scivolata, in seguito, gli stai accanto, cerchi di stargli vicino, ti metti dalla parte di qua, in modo che comunque lui deve, deve venirti incontro, deve tagliare, e intanto, gli fai perdere un po' di tempo, che possono recuperare gli altri, non entrare in quella maniera lì, sconsiderata, è entrato in scivolata, l'ha steso, perché praticamente, lì non puoi neanche dire, ha provato a prendere il pallone, perché il pallone era andato via da Mo, come diceva qualcuno, l'ha steso, è arrivato l'arbitro, anche il cronista fa, adesso vediamo di che colore è il cartellino, rosso diretto, e lì è finita la partita, perché praticamente il Como, ha iniziato ad attaccare, ad attaccare, ad attaccare, a mettere sotto il Brescia, che non è più uscito dalla sua metacampo, da quelli dagli elai che ho visto, e è arrivato, alla fine, il gol del Como al sessantesimo, tiro appena dentro l'area, su un calcio d'angolo, su un cross, il portiere l'ha respinta un po' alla meglio, si è avventato Baselli, che è stato bravo a rimanere in linea, con la difesa del Brescia, e non finire in fuorigioco, perché loro speravano, che fosse in fuorigioco, ma non lo era, ha ribattuto in porta, poi non ha esultato, perché probabilmente è un S del Brescia, e quindi il Como è passato in vantaggio, piccola postilla iniziale, io, Parigini, non ho più parole, allora, primo tempo, prima che arrivasse l'occasionissima, del Pablo Rodriguez, no? Azione di Parigini, ecco Parigini, che si invola, centralmente, ecco Parigini, che si avvicina all'area di rigore, hai un compagno a destra, uno a sinistra, gli puoi passare la palla, i tre difensori si stanno chiudendo su di te, e quindi hanno lasciato i due compagni liberi, lui cosa fa? Tira un passaggino al portiere, quel tiro lì lo paro anch'io, anch'io che gioco a calcio a 5, che sono abituato alle porticine 4x2, esagerando, se sono 4x2, in una porta a 7 metri, 7 metri rotti, un tiro del Genoparo anch'io, poi, azione dopo, ancora Parigini, ecco Parigini, che si invola, sulla fascia sinistra, del centro-sinistra, della difesa del Brescia, entra in area, prova il tiro alla Marco Tardelli, nella finale del Mondiale, quindi in scivolata, a incrociare verso l'angolino, palla fuori di un metro, con Cutrone, che bestemmiava in tutte le lingue, sul secondo palo, tenta un cross, fagli un cross, prova a tagliare, no, deve tirare, e non c'entra la porta, impegno tanto, tutto quello che volete, perché a Parigini, cosa gli vuoi dire, come impegno e tutto, ma, io, è un anno e mezzo, che seguo il Como, da quando sono qua, sul lago, che ho deciso di seguire il Como, a Parigini, tutte le domeniche, mi deve fare girare i maroni, per sempre, le solite cose, che continuo a dirgli, da un anno e mezzo, quando sei, stai puntando l'area, eccetera, eccetera, non tirare, appena entri, appena vedi il semicerchio dell'area, entra in area, e poi magari calci, perché se no, già sei stanco, perché ti sei fatto la sgroppata, da 30-40 metri, palla al piede, poi se calci da, meno di 16 metri, più di 16 metri, ciao, gli passi il pallone al portiere, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ormai saranno 50 volte, che lo dico, ma tanto lui va avanti, a fare sempre le solite cose, vabbè, tanto non mi ascolterà, perché, che se vuoi che mi ascolti, il buon Parigini, però è sempre il solito errore, arriva al limite dell'area, a calcia, gli passa il pallone al portiere, poi 1 su 1000, riesce a trovare il gol della vita, che magari, pallava dentro, magari anche per una papera del portiere, perché se no, sempre così, sempre sti tiri qua, belli passaggino al portiere, si pagano, e infatti, se non era per Bins, poi eravamo sotto 1-0, perché il buon Rodriguez, l'avrebbe messa, invece Bins è stato bravo, col corpo, ha salvato sulla riga, poi Mangraviti, si è fatto espellere, Papetti, un genio della lampada, complimenti a Papetti, siamo al 43esimo e 30 secondi, la partita è finita, state perdendo 1-0, avete perso già, un centrale, resti tu come centrale, sei già ammonito, vai a rompere i coglioni all'arbitro, l'arbitro fa finta di nulla, ti allontani, gliene dici ancora, e alla fine l'arbitro, gli sono girati i testi, giallo, rosso, e la prossima al Brescia, una gioca senza difesa, senza né Pappetti, né Mangraviti, sono già nella cacca, che leggevo i youtuber bresciani, che sono abbastanza inferociti, svegliatevi, c'era scritto, che stavo cercando appunto, dove andare a vedere, alla fine ho detto, vado su Sky, e infatti c'è tutta la lista, delle gare e quant'altro, comunque, tre punti pesanti, libidine per il Como, ragazzi miei, tanta roba, abbiamo il portiere nuovo, abbiamo il buon Gomis, che è tanta roba, per il resto, ho visto Gabrielloni e Cutrone in attacco, Parigini, Dariva, Bellemo, ah ecco, che ha tirato il tiro, Bellemo, Bellemo, ha fatto il tiro, respinto dal portiere, ripreso, dal buon Baselli, che è subentrato nella ripresa, poi difesa, Binscaglia e Odenthal, sono i soliti, mi sembra che per ora, a parte Gomis, nessuno dei nuovi, c'è, c'è Bandelub, che è entrato e subentrato, Endonji, è entrato anche lui, Aie, mi sa che anche lui è nuovo, Labai Koi, mi sa che anche lui è nuovo, tutti i giorni, libidine, mi fa libidine, no ma sto, sto guardando, stavo guardando il Brescia, infatti, stavo guardando il Brescia, credo, chiedo Venia, allora no, sono entrati, Mancuso, Cerri, Baselli, Faragò, Fabris Glass, come sempre, stavo vedendo se c'è qualcuno, dei quelli nuovi, a parte da Cugna, che è l'attaccante nuovo, che dovremmo aver preso, e anche il buon Pierozzi, dovrebbe essere un nuovo acquisto, oltre a Gomis, che signori miei, dovrebbe regalarci qualche punticino in più, non che Ghidotti fosse scarso, ci mancherebbe, perché il buon Ghidotti di Papere, sinceramente non me ne ricordo, e spesso e volentieri, ci ha salvato, il fondoschiena, con ottimi interventi, comunque sono tre punti, pesanti e importanti, su un campo esterno, oggi pomeriggio alle 16.15, ma adesso ne parleremo, delle prossime partite, c'è una partita tosta, ma detto, ho parlato del Como, ho parlato di Parigini, perché, tutte le volte, mi deve sempre fare infervorare, andiamo a vedere, com'è andata settimana scorsa, la giornata, che chiedo Venia, mi ero completamente dimenticato, è stata la giornata, dei cartellini rossi, ragazzi, a parte i due, che si sono visti, in Brescia, come adesso, anche in Cagliarispal, c'è stato il cartellino rosso, forse anche di più, adesso lo vedremo, Venezia cittadella cartellino rosso, su Tiron Regina cartellino rosso, Cosenza Parma cartellino rosso, Genoa Pisa cartellino rosso, e quindi, adesso andiamo a vedere, gara per gara, innanzitutto, venerdì sera, di una settimana fa, Cagliarispal, 2 a 1, vittoria del Cagliari, Spal, che resta in 10, ma ormai è la partita, ecco, farsi espellere al 90, 90 più 6, cioè io non so, perché si è fatto espellere, Maisto, eccetera, ma si è fatto, come il buon Papetti, lì, nella gara del Brescia-Como, sei un genio, sei un genio del male, però, non del bene, perché, cioè ormai la partita è finita, o l'hai fatto, perché fallo da ultimo uomo, volevi salvare un gol, eccetera, ma se l'hai fatto, per un fallaccio, per, parolina di troppo all'arbitro, eccetera, eccetera, lì sei un genio, comunque, dicevamo, 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 2 a 0 del Cagliari, 2 a 1, anzi, scusate, del Cagliari sulla Spal, Venezia-Cittadella 1 a 1, anche qua c'è un bel cartellino rosso, all'ottantottesimo, ecco, anche qua, all'ottantottesimo minuto, tu ti fai espellere, ah, Abstra l'altro, quindi non, baobao, micio, micio, uno dei giocatori più, sull'1 a 1, ormai la partita era, il Derbone, Venezia-Cittadella, sono vicine, vicine, comunque, Venezia che pareggia 1 a 1, a noi va molto bene, un po' meno per il Venezia, Ternana-Modena, 2 a 1, su Tirol, Regina, su Tirol, batte la Regina, la inguaia, tra virgolette, cioè, permette al Fusinone di menare le tolle ulteriormente, mentre invece questa vittoria per il sul Tirol, la mette ancora sempre di più, in zona playoff, in zona playoff, questo su Tirol neopromosso, che sta facendo un gran campionato, non vorrei, e poi l'anno prossimo, gli veniva sfiga, da notare il gol di Jeremy Menez, per la Regina, inutile, perché poi alla fine ha vinto 2 a 1, il su Tirol, tra l'altro il su Tirol ha vinto, in 10, perché il gol è arrivato all'85esimo, con il su Tirol che giocava in 10 contro 11, perché al 78esimo è stato espulso, punto, punto, curto, vabbè, quello che è, curto, 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 beh, su Tirol, Regina 2 a 1, sorpresona relativa, è relativa, perché comunque, signori miei, il su Tirol sta facendo un campionato, da Libidine, Cosenza Parma 1 a 0, Cosenza anche lui in 10, dal settantesimo, però dal quarto minuto era passato in vantaggio, e poi, nonostante, per 20 minuti più recupero, se è rimasto in 10, è riuscito a resistere agli assalti del Parma, e a portarsi a casa tre punti, belli in saccocciotta, che fanno, che fanno comodo, per il Cosenza naturalmente, non certo per il Parma. Poi c'è la mega sorpresona della Perugia, che va a vincere a Bari 2 a 0, il risveglio dei morti viventi, non me ne vogliano i tifosi del Perugia, ma quest'anno il Perugia, sembrava dormiente, mi permettete il termine, Genoa-Pisa 0 a 0, Genoa-Cimabue, come sempre, non fa in tempo a essere felice, che bello, abbiamo vinto, abbiamo vinto, tac, pareggio, con un Pisa che resiste, per di più, in dieci uomini, dal 66esimo, quindi per 24 minuti più recupero, riesce a portarsi a casa, al punticino da Genoa, tanto forse l'ho anche un po' intravista, quella partita lì, quindi con il Genoa che ci provava, ma il Palermo, questa è un'altra vittoria pesante, il Palermo che va a vincere ad Ascoli 2 a 1, e infine il Frosinone capolista, che gode come un riccio, perché il Bari ha perso, il Genoa ha pareggiato, eccetera eccetera eccetera, e quindi le inseguitrici rallentano, ma lui senza sprecarsi più di tanto, un 1 a 0 proprio mortifero, noioso, si porta a casa tre punticini, che lo avvicinano sempre di più alla Serie A, perché adesso il Frosinone ha ben 8 punti di vantaggio sul Genoa, 9 punti di vantaggio sulla Regina, 13 punti di vantaggio sul Sud Tirol, e ben 15 punti di vantaggio sul Bari, che è quinto, poi abbiamo il Cagliari Sesto a 32 punti, la Ternana a 32 punti, il Pisa a 31 punti, tutte squadre che si giocheranno i playoff, tenete conto che in ottava posizione, a pari merito, troviamo Pisa, Modena e Palermo, a 30 punti c'è il Parma, e poi dopo più distaccate ci sono le altre, ci sono Ascoli e Como, dodicesima e tredicesima, ma pari punti a 26, il Brescia a 25, la Spal a 24, Cittadella a 24 pari della Spal, il Benevento, per ora è salvo, tra virgolette, salvo un tubo, il Benevento giocherà, attenzione, sono a pari punti tutti e due, Benevento e Cittadella, la differenza reti per ora, ha vantaggio al Cittadella, però in questo momento, se finisse adesso il campionato di Serie B, Benevento e Cittadella, giocherebbero i play out, quindi si sfiderebbero loro due, e in Lega Pro, se Riecici andrebbero, Perugia a 23, che a pari del Benevento, quindi attenzione, e sì perché il Cittadella a 24 punti, Benevento e Perugia sono a 23, ed è il Benevento che è 17, perché è a meno 5 di differenza reti, contro il meno 8 del Perugia, poi il Venezia a 21, e il Cosenza a 21, quindi la lotta per la salvezza, ancora tutta da decidere, certo che se il Venezia non si dà una mossa, rischia di fare il doppio salto del gambero, passare dalla Serie A, alla Serie C in due anni, e sarebbe abbastanza clamoroso, dal tono della questione è sempre quella, tu pensi di tenere, i giocatori forti che magari sono abituati al campionato maggiore, per poter vincere abbastanza in scioltezza, il campionato di Serie B, il problema è che il campionato di Serie B, è da una parte più facile, tra virgolette, e dall'altra più difficile, perché ci devi essere abituato, quindi in certe squadre, magari è meglio avere giocatori per la Serie B, che sono abituati a giocare nei campionati minori, quindi Lega Pro e Serie B, forti, bravi, che hanno dimostrato comunque di essere dei giocatori bravi, ma adatti a quelle due categorie lì, che non avere i giocatori di Serie A, che magari sono un po' tra virgolette snobbini, e anche se si impegnano, c'è sempre una questione della testa, che è ma gioco in Serie B, è ma gioco in Serie B, io dovrei giocare in Serie A, dovrei giocare in Liga, dovrei giocare nella Ligue 1, dovrei giocare in Bundesliga, dovrei giocare nella Premier, cosa ci faccio qua, e quindi anche se magari inconsciamente, entrano in campo e... non sono come se giocassero in Serie A, ecco, per dire, poi dipende da giocatore a giocatore, è come quando dico, faccio sempre l'esempio del buon Biraghi, nell'Inter era mister 5 e mezzo, nella Fiorentina è capitano, e i suoi voti variano sempre tra il 6 e il 7, quasi sempre. Comunque ragazzoli, prossimo turno, bello tosto per il Como, però è la prova di maturità ragazzi. Modena Cagliari, che si è giocata ieri sera, e ha visto la vittoria del Modena, con il Cagliari che è rimasto in 10, tra l'altro. Ah, a proposito, la classifica, il Modena ha una partita in più, quindi bisognerà, adesso, in classifica il Modena, in questo momento, con la partita in più, si trova il nonno posto a 31 punti, però ha già giocato a una partita in più, quindi molte squadre, non tutte, no, possono passarlo solo il Parma, Parma e Palermo lo possono solpassare, il Palermo ha pari punti, e il Parma ha un punto in meno, quindi se il Parma vince, supera il Modena, lo manda in decima posizione, undicesima, il Palermo ha pari con il Modena, anche solo un pareggio, gli permetterebbe di stargli davanti, però, comunque, un Modena, anche lui ne ho promosso, che male che vada, alla fine della giornata, sarà undicesimo, è tanta roba. Comunque, stavamo dicendo, le partite ieri sera, si è giocata Modena-Cagliari, col Cagliari che è rimasto anche in 10, ma ne parleremo poi nel riepilogone, di settimana prossima. Poi si giocherà oggi pomeriggio, Cittadella Ascoli, Spal Bari, Benevento-Venezia in una sfida, che definire disperata, è dire poco, Perugia-Brescia, anche questa è una sfida che, ragazzi miei, il Brescia è in crisi da mesi, e se perde col Perugia, è crisi nerissima, non nera. Cosenza-Ternan, un'altra partita importantissima, per il Cosenza, per allontanarsi dalla zona salvezza. Pisa-Sut-Tirolo, questa è una sfida tra play-off-anti, se mi passate il termine. Como-Frosinone, ragazzi, Como-Frosinone, partita durissima per il Como, giochi contro la Capolista, che è vero, che è rilassata, più 8, eccetera, ma non verrà certa al Senigallia, a regalare i punti. Quindi portare a casa, già un bel pareggio, sarebbe tanta roba, se poi dovesse venire il colpaccio, una bella vittorietta, anche solo 1-0 va bene. Poi abbiamo un Palermo-Reggina, per la sfida dello stretto, si fa per dire. Calabrese contro, Palmetani, Cammela, un'è, a partita. Lasciamo perdere il mio siciliano pessimo, e concludiamo con domenica, tutte e due nello stesso tempo, Palermo-Reggina e Parma-Genoa. E questa è una partita, anche questa, che potrebbe regalare al Genoa, tre punti per allontanarsi, almeno arrivare al terzo posto, che vuol dire comunque tanta roba. È vero che raramente quelli che arrivano terzi, poi vanno direttamente in Serie A, nel senso dopo i play-off vanno in Serie A. Però comincia arrivando terzo, che hai due risultati su tre a disposizione, quando fai la sfida di play-off, d'andata e ritorno, con le altre squadre, o partita secca, che dir si voglia. Di solito andate e ritorno. Le partite secche riguardano solo quella dall'ottava alla quinta posizione, che si sfidano in una partita secca in casa della squadra che è davanti. In caso di parità, supplementare, in caso di ulteriore parità, rigori. Poi naturalmente quelle quattro lì si sa già che vanno a sfidare le migliori due che sono lì che aspettano. Perché sono quattro squadre, si fanno due semifinali, dalla quinta all'ottava, passa la sesta e la settima, per dire la quinta e la settima, te va a sfidare, la quinta sfiderà la quarta e la settima sfiderà la terza o la sesta, dipende chi passerà o l'ottava. Quello che passa, passa. Comunque, ragasoli, così è, bella vittoria del Como a Brescia, tre punti pesanti, si sale finalmente, era un po' che non vedevo il Como in tredicesima posizione. L'anno scorso era una posizione, è rimasto tra l'ottava e la tredicesima, quattordicesima posizione per tutto il campionato. Magari all'ottava non c'è mai arrivato, forse c'è arrivato solo una volta. Però era sempre lì. quest'anno finalmente si vede la luce e si vede un Como tredicesima, un po' di respiro che ci vuole. Certo, il Cittadella è a 24, la spalla è a 24, tu sei a 26, non sei salvo per nulla. Però un pareggio col Frosinone, portare a casa punti col Frosinone sarebbe una bella manna dal cielo, anche solo un pareggio. Fare punti, fare punti, perché le altre non sono lontanissime. perché se le altre fossero, non so, ce ne fossero due che sono lì a 8 e 15 punti e tu ne hai 26, dici, vabbè, devo solo stare attento alla terza ultima che in questo caso è il Perugia. Invece ci sono tre squadre lì appiccicate vicine e vicine a 5 punti, 4 o 5 punti da te bastando le sconfitte ti sono subito ad osso e si andrà capo. Speravo in un epilogo diverso questo campionato di Serie B dopo il primo anno di rodaggio del Como che appunto l'ultima volta che era tornato in Serie B è ritornato subito in Serie C quest'anno magari potrebbe essere la volta buona per fare quel saltino di qualità in più e che ne so con un po' di fortuna Bus del Niau arrivare tra le prime 8 e provare l'ebbrezza di giocare i playoff ragazzoli mi sono dilungato troppo chiedo venia ci vediamo alla prossima ciao